Aveva capito che ciò che aveva per le mani era merce pregiata e che poteva essere un facile guadagno piazzarla a chi di dovere. Del resto, Mastro De Pai in Italia e nel mondo è tra i marchi di Pipe tra i più pregiati e costosi, roba da intenditori, pezzi unici fatti a mano. E lo sapevano bene anche il compianto presidente Pertini e l'allenatore della nazionale campione del mondo Enzo Berzot. Un italiano di 38 anni, già noto alle forze dell'ordine residente a Pesaro, è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato. Il 38enne, operaio di una delle ditte incaricate per il trasporto della merce della Mastro De Pai per il trasferimento della sede, la notte del 6 novembre scorso si introduce nel magazzino dell'azienda che ormai conosceva bene e porta via 70 pipe per un valore di 20.000 euro. Un testimone, interrogato dalla polizia, parla di una station wagon e di un numero di targa. Scattano le indagini che portano rapidamente all'operaio che è messo alle strette, non può far altro che confessare. L'idea del primo giorno in cui ho messo piede a Pesaro, ho dato l'input ai cittadini di darci qualche elemento che per loro era irrilevante ma per noi era importante. Non vi sto a spiegare quanti arresti abbiamo fatto con la collaborazione con i cittadini e tanto è vero che io ho premiato durante la festa della polizia due cittadini che si sono resi particolarmente meritevoli di questa nostra riconoscenza. Le pipe portate via non sono solo quelle del furto, bensì anche un'altra ottantina sottratta al carico del trasloco per altri 10.000 euro che insieme alle altre il pesarese ha piazzato in una tabaccheria di San Marino. Con San Marino abbiamo un rapporto privilegiato, possiamo dire anche storico, con il dottor Farone siamo in eccezione ai rapporti, è un grande professionista e quindi ci siamo attivati immediatamente per capire dove il responsabile del furto avesse potuto smerciare, vendere, ricettare. Ora la preziosa refurtiva è ritornata legittimo proprietario con grande gioia dato che tutti i pezzi erano già stati ordinati dagli appassionati e da collezionisti di mezzo mondo. Il mercato dei pipe è un mercato mondiale, è una cosa che io posso capire che chi non è in questa nicchia può pensare che ma chi fuma più la pipa? Non è vero, nel mondo ci sono tantissimi produttori e bravissimi artigiani e qui a Pesero dalla Mastro del Paia ne sono nati tanti perché molti ex dipendenti hanno fatto il loro laboratorio e noi siamo orgogliosi che continuino a farlo perché tramandiamo e allarghiamo sempre di più la pipa italiana.